Noi facciamo dei ragionamenti diversi rispetto alle altre squadre che sono in testa. Se voi andate a vedere tutti e tre i gironi, le prime cinque posizioni, noi alla Pro Sesto giochiamo con i giovani. Giocare con i giovani ti fa fare un mercato diverso, ti fa fare una composizione della squadra diversa. Se io mi chiamo Reggiana, prendo il migliore di questo, il migliore di questo e il migliore di questo. Stessa cosa se mi chiamo Entella, se mi chiamo Cesena. Se mi chiamo Gubbio devo vedere i giovani, devo fare il minutaggio, devo fare la squadra con altri criteri. E quindi avvalora di più ancora il lavoro che è stato fatto da tutti. Però questi ragazzi vanno aspettati perché hanno bisogno di intraprendere un percorso. Noi non possiamo prendere un giocatore di Serie B e metterlo a Gubbio, già pronto. Noi dobbiamo avere e sperare l'esplosione di questi ragazzi e vivere di idee e di intuizioni che poi si possono trasformare in un domani in giocatori importanti. I ragazzi della Curva ci seguono. Io avverto la loro presenza. Anzi, sono venuti anche a trovarci. E sono per noi imprescindibili. Quanto riguarda il resto, fai tu le considerazioni. Io ho visto che comunque con la Lucchese c'erano appena 250 paganti per uno sconto diretto per andare ai playoff di Serie C che ti possono portare eventualmente anche in Serie B. Sicuramente noi come società un mea culpa lo dobbiamo fare. Io sono qui da due anni. Sicuramente noi abbiamo sbagliato qualcosa a non riuscire a entrare nel cuore della gente. Non della Curva, ma della gente in generale. Questa squadra è una squadra che fatica a essere amata da tutti. Non so perché, però fatica. Forse perché qua, come ti dicevo prima, secondo me c'è un problema di fondo che si vede sempre il bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno. Qui ha abberto obiettivamente dall'ambiente un senso di non piena appagatezza, ma il gubbio è loro, il gubbio è degli eugubini, il gubbio è della città. Non è né di Davide Mignemi, né di Piero Braia, né di Savonotari. Il primo pensiero che ho avuto quando sono arrivato qui, grazie a Mr. Torrente, lo scorso anno, è stato quello di pensare che il giorno che andrò via volevo avere una società con un blasone diverso rispetto a quando ero arrivato. Questo, fino adesso, sono stato fortunato perché l'ho raggiunto. Qui, quando io sono arrivato, si veniva da stagioni un po' altalenanti. In due anni si è costruito qualcosa di importante e credo che comunque questo è merito in primis del Presidente Notare, a cui devo tantissimo. Speriamo poi di continuare così. Quello che sarà il futuro lo decideremo a fine stagione.